Dove stai andando? E il resto dov'è? Ho finito con i giochi. Tu finisci quando smetterai di lavorare per me. Ho terminato la decima sfida. Ormai li ho prosciugati tutti. Non ci metteranno molto questi tessi a capire che sono finiti. Vuol dire che dovrei essere un po' più creativa. Lavoro bene, sotto 50 metri. In acqua, non all'asciutto. Tu crei idee? Io sono l'apneista. E ad oggi non mi sembra che tu sia molto produttivo. Mi è arrivata la notizia che c'è qualcosa di grosso. Sta arrivando un mercantile con roba importante. Nel frattempo ci serviranno ancora parecchi soldoni. D'ora in poi te li farai da solo i tuoi soldoni. È finita. D'ora in poi te li farai da solo i tuoi soldi.